Ciao a tutti! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono in compagnia del più cagnolino Kiko! E vi farò vedere la Super TNT Mod Una mod che aggiunge tantissimi nuovi esplosivi A dire il vero non rinite 3 di mod Ma io vi farò vedere un po' sparse Sì, vediamo! Allora, partiamo prima di tutto Anzi, guarda tu da qui! Che faccio a vedere poi i miei fan quanto sono bella questa TNT! Ok, allora partiamo dalla Largio TNT! Sì, chicchetto! La Largio TNT sarà circa 8 volte la TNT normale! Sì! Wow! Oh mio Dio, bel buco! Ah sì, veramente molto forte in confronto alla TNT normale! Ragazzi, ora c'è il bello! Fatemi un attimo, non sarà sotto il tavolo! Eh sì, chicchetto deve andare sotto il tavolo! Allora, proviamo la Massive TNT! Che questa dovrebbe essere addirittura 200 volte la TNT normale! Oh mio Dio! Pure chicco ha visto! È un buco gigantesco ragazzi! È enorme! Guardate il buco quanto diavolo è grande! Ma ora proveremo un eplosivo diverso, ovvero di un'altra mod che si chiama la bomba all'idrogeno! È molto conosciuta già e la proveremo! Oh mio Dio! Sì, sì! Quella è la Massive, questa è l'idrogeno! L'idrogeno ha fatto un buco tutto un po' bruttino, squadrato, ma veramente enorme! Ma ora proveremo la Super TNT della distruzione di massa! La proveremo in questo villaggio, così i poveri villici, la loro vita tranquilla verrà interrotta da una Super Megabomba! Che questa ragazzi è veramente incredibile! La TNT è scomparsa, stoppa un attimo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Quanto è grande il buco! Incredibile! Mettiamo con la chat giorno! Ma ora ragazzi proveremo una TNT troppo bella! Si chiama la Cheasy TNT, la TNT del formaggio! Non mi ho messo notte perché ancora non è notte! Questa TNT è bellissima! Alzo un attimo il volume, così sentite bene! I love cheese, 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 I love Swiss and jalapeno Jack, I will love cheese from my brain Bellissima quella canzone! Ora però proveremo una TNT veramente amata da tutti! Che è la LGBT! Dobbiamo mettere giorno! Perfetto! Lei LGBT la TNT bellissima! Che bellezza! Guardate che cosa ha fatto! Ha preso tutto il mondo colorato! L'aria è circa come quella del formaggio! Ma ragazzi ora, questi due villaggi, anzi no è uno, la li prove, qui proveremo una TNT per mille al fianco di questo villaggio ed è veramente qualcosa di assurdo la TNT per mille! La proveremo a fianco perché dopo proveremo veramente una TNT illegale tra poco Questa è la per mille? Quelle è la per mille? esplosa o mio dio la per mille ora proveremo l'ultima tnt che questa è illegale cioè è tutta la mia tnt preferita due è la tnt più distruttiva e stiamo parlando della one to rule then all the tnt of the ends of tnt oh mio dio due c'è ragazzi io ve l'avevo fatta vedere nel video che questa è la tnt più forte in assoluto e la stiamo provando ci ho messo tantissimi anni per ricercarla ve l'ho fatto vedere nella speciale 35 iscritti delle tnt più forte questo è il primo posto preparatevi allora l'esplosione è 60 per cento completata meno male che carica velocemente ci mette circa un minutino a caricare ma ragazzi questa tnt è qualcosa di veramente assurdo inquadriamo bene perché questa tnt è la mia preferita 99.5 ora dobbiamo aspettare qualche secondo credo io stop un attimo oh mio dio oh mio dio è andata è andata oddio 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 guarda la guarda il buco della per mille state oh mio dio oh mio dio è tutto distrutto oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio no 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 ma distrutto no va bene io non ci credo c'è ha ricoperto tutto il buco della per mille c'è ha ricoperto tutto il buco della per mille oh mio dio oh mio dio la tnt più forte in assoluto guardate fin dove arriva i villici sono ancora vivi ma saranno malati ma oh mio dio non riesco a smettere più di dire oh mio dio c'è è qualcosa di è la prima volta che la vedo con i miei occhi l'avevo sempre vista in video la cercavo da sempre guardate che non si riesce a vedere ed anche tutto il buco andiamo opzioni è la massima distanza 16 chunk oh mio dio non ci credo è il buco più grande del mondo c'è io mi io mi guardo intorno c'è questa tnt la fine del mondo spero che il video vi sia piaciuto 20 like per questo cratere assurdo che la tnt più forte del mondo